Sono Maduria Cali Agostini, un'artista del territorio casentinese. Stiamo organizzando a cura di Alberta Piroci un evento in foresta, Prato alla Penna, inizio del sentiero 00 della Giogana. Le arti esplorano la selva oscura, Arts for Nature, si chiama il nostro progetto artistico. Portiamo le arti in mezzo alla natura, declamiamo Dante, suoniamo The Flouting Forest e disponiamo le mie opere, le creature femminili fantastiche. Questo progetto nasce dall'esigenza di invitare le persone a ritornare a comprendere che la natura è una divinità, è la divinità per eccellenza e che ama essere adorata e che il fatto che non la adoriamo più crea in essa un disagio emotivo ed esistenziale, perché anche la natura è viva, gli alberi sono vivi, gli animali sono vivi, la terra è viva, gli elementi sono vivi, tutto ciò che ci circonda è vivo. E quindi di conseguenza vogliamo celebrare la natura, festeggiare la natura, declamare la natura insieme ad altri artisti come me, Laura Manescalchi, flautista, Roberta Maggi, lettrice, e tante realtà casentinesi di guidi ambientali che porteranno per chi lo desidera le persone a Poggio Scali e Ritorno, in concomitanza con tutto l'evento che comunque è ingresso libero e che è raggiungibilissimo anche in automobile, qualora ci fossero persone disabili o anziane che non desiderano fare il trekking e che non possono raggiungere Poggio Scali, è possibile partecipare anche solo all'evento raggiungendo Prata alla Penna in automobile, sopra l'arremo di Camaldoli.